bello a tutti ragazzi da san potato tre squadri corsa di corsa ragazzi ma dove sto correndo che devo correre di qua io allora ho fissato la farm comunque allora vediamo qua che cosa è questo allium questo mi dà un colore se lo faccio magenta wow no 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 allora 1 3 4 5 6 7 8 9 10 dai c'è famo 10 de allium wow ragazzi che bello mannaggia sa già fa buio volevo far vedere che ho fissato un pochettino meglio la la farm di calcestruzzo ma sta fa buio sta fa giorno no sta fa buio ragazzi dobbiamo andare a dormire che non voglio sorprese né phantom niente di niente quindi costo però quando mi sveglio mai che avesse una voglia una fetta di una buona torta ormai stanno lì ragazzi che vedevo di ormai e allora 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 prendiamoci un po di penso che mezzo così 34 25 c'è basta attrezzature costruzione ma fabbricazione costruzione non tutte fabbricabile o eccolo qua perfetto 48 abbiamo anche esagerato cos'è che ne avevo di più di ghiaia sicuramente quindi sì ho consumato questo ci manca una de sabbia che se ne torna lì e quattro vabbè coloranti per ora li mettiamo in una cesta qui così so che tu qua ci vanno tutti colorati in attesa che farò la stanza dei colori perché vorrei farla la stanza dei colori che metterci tutto lana calcestruzzo e così abbiamo tutto lì ragazzi vi faccio vedere come l'ho migliorata praticamente allora alzando di un blocco di legno di qua e di là ho messo il cartello anche qua sotto in modo tale che così ragazzi se voi sbagliate ad azionare il meccanismo l'acqua non scende perché viene bloccato dall'altro cartello e comunque comunque ho spostato il bottone da qui a qui però prima era qua verità poi ho alzato di un blocco e ho messo praticamente il bottone qualche più comodo vedete è infatti adesso andrò a farmi andrò a farmi il come si dice qua il calcestruzzo questo qua perfetto lo faccio tutto dai tanto 48 ci sto veramente un attimo ok ragazzi abbiamo fatto addirittura ho fatto altri due stacchi di calcestruzzo blu e adesso ragazzi andiamo qui nella zona perché come potete vedere leggere bene dal titolo in teoria ho già tutto perché proprio è una cosa ah beh manca un cartello ma lo recupero dopo diciamo che vorrei farlo qua sopra magari che se si vede un pochettino magari spiano no senza spianare ragazzi lo facciamo direttamente qui quindi io direi di fare un buco da allora così 12 il tronco deve essere da 4 quindi contorno deve essere da ancora uno più in parte entro abbiamo fatto un quadrato non ho contato ma in teoria se io ci metto qua queste ok in teoria 1 2 3 4 perfetto facciamo una specie di albero astratto ragazzi guarda che bel abbinamento di colore tra l'altro quindi diciamo che andiamo solo di 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 aia 6 così e 6 così ma voi stivaletti mi andranno a quel paese vediamo è tutta l'armatura ragazzi sta andando un po quel paese ma magno è in teoria questo qua mi serve anche allora questo non mi serve l'erba mi serve per l'erba la terra mi serve un pochettino come da impalcatura quindi io direi che possiamo andare su così può creare una specie di di buongiorno però posso andare così così di qua così non cadere di qua così poi saliamo e beh ancora un po così vabbè ragazzi io vado un po a caso e vediamo come viene ok ragazzi dopo una riposante dormita una rinvigorante dormita ragazzi vi faccio vedere il risultato quale ci ha messo un bel po è perché questi cavoli alla fine per far più veloce ragazzi ho fatto tipo delle spirali quindi si andava su veloci veloci allora come potete vedere tipo quasi finito quasi questo qua è l'albero dedicato a seged corba un albero astratto però volevo metterci anche un diciamo la mia firma però tipo delle mele fintere ovviamente a mele di redstone perché siamo in minecraft e quindi tatesca quindi ci mettiamo magari un acqua la nome la fame e andiamo un po più su a proposito guardate in mezzo ho messo la glowstone da vabbè l'aluminite così no l'aluminite va bene non mi ricordo come si chiama no la torcia di pietra rossa vabbè avete capito cosa ho messo ok uno qui uno qui o caso è da riempire un po l'albero vediamo come viene se viene bello lasciamo così alla base l'ho fatta viola così magenta giusto perché volevo fare una base strana diciamo e quindi un carino dai cioè c'è sta dai mettiamo con un po che ragazzi vediamo come viene alla fine perché mi sembra che viene un po più bello così vediamo dai vediamo un po adesso di mettere un po di qua un po di là allora scusatemi un attimo devo fare ancora 1 2 3 4 6 dai 4 quindi alluminite la mettiamo via tac 4 come cavolo si chiamano l'aluminite e scusate a questa polvere di illuminite come sempre è ok ok va bene va bene va bene capito capito a mannaggia comunque la messa 6 ha messo un po che te allora mettiamo giù la roba subito che non ci serve quindi questa va giù poi va bene cacestruzzo carcestruzzo che ne so io per ora qua non c'è niente no no per ora cacestruzzo lo mettiamo qua e colori tutto mescoliamo tutto e dobbiamo uscire dall'altra parte ragazzi perché lì devo mettere un portone a meno che se ce l'ho già spettacolare se l'ho ok allora quindi mettiamo 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 mi serve una pedana eccola qua perfetto avrebbe che potevo fare vabbè ormai mettiamo sì dai dai ormai mettiamo il cancello ormai che l'ho detto è che cazzo aspetta però mi manca questa vale allora quindi noi mettiamo un bel cancelletto lo mettiamo qui la pedanina qui ok quindi ci manca io diciamo negli angoli e porca caccia però e vabbè facciamo una strissia di riporto ovviamente uguale a questa così non si vede diciamo che negli angoli vorrei mettere la cosa vuole mettere la è tipo anche qua facciamo un'altra strissia di riporto così ecco perfetto vabbè mettiamo anche qua quindi così illuminiamo da sotto un po la scultura no così magari di notte viene bella a parte che adesso è mezzogiorno stiamo andando verso la sera ragazzi aspettiamo che venga la notte comunque la sera la scultura diciamo è finita aspettiamo che venga solo la notte vediamo un po come cosa avviene fuori diamo da qua invece è carina dai a il cartello è vero e al cartello ok allora 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 basta cosa ci fa qua la ossidiana e poi un cartello mannaggia che ci faceva lì l'ossidiana forse quando ho preso la roba per fare la fornaccia automatica ragazzi l'ho appoggiata qua ha detto tanto poi l'ha sposto vabbè che i cartelli ci vado spesso a prenderli quindi e difatti vedete che non ne ho neanche una e voleva fregarmi è portato mettiamo il cartello è allora qua scriviamo mettiamo qua scriviamo magari albero scultura moderna ecco ma si mette anche a piovere basta che non è temporale scultura spazio moderna sotto cioè mode ok e poi sotto mettiamo corba l'ho fatta blu come piace a te allora fammi sapere ok l'hai fatta ok perfetto l'ho fatta blu fammi sapere se ti piace scrivimi commenti se ti è piaciuta sono dedicata a te questa è quindi a me piace sinceramente pensavo peggio ma alla fine con quei blocchi di pietra rossa lì non è male non è male aspettiamo che venga la notte e vediamo come come viene ed ha anche smesso di piovere tra l'altro quindi vediamo un po da lontano viene abbastanza bene illuminato sì sì anche sotto è bene illuminato perché c'è l'alluminata che che le illumina sotto perfetto il centro qua dietro resta un po buio vabbè però diciamo che c'è sta c'è sta ragazzi a me piace qua non c'è un annegato no non c'è un affogato perfetto quindi io me ne torno di qua a proposito tratto di qua è aperto avevo delle torce sì magari le piazzo una qua e una qua che non fa mai male bene ragazzi sono abbastanza soddisfatto di questa scultura moderna la prima che faccio tra l'altro ragazzi la prima scultura di arte moderna che faccio quindi diciamo se questa scultura vi è piaciuta ragazzi mi invita a mettere un pollicione in su perché tra l'altro la mia prima arte moderna che faccio commentate scrivetemi i ragazzi se vi piacciono se cosa avreste fatto voi o se voi avete fatto qualcosa scrivetemelo nei link magari mettete il link del vostro video o di un magari un asco di un video che dove c'è qualcosa che vi piace sarò contento di andarlo a vedere noi ragazzi quindi come sempre ci vediamo nel prossimo video sempre qui sul mio canale sempre qua su youtube sempre qua su xbox one noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti